Buongiorno Buongiorno Un attimo che arriviamo subito No, un attimo niente Io ho prenotato e non voglio aspettare, va bene? Allora venga, venga Sarà meglio No, guardi, li ho già lavati in precedenza Non ce n'è bisogno di lavarmeli No, perché vedo che è della stima rimasta nei capelli Sì Sì, con una sciacoltina, però, eh? Si è così Eh, sì? Mamma, che puzza di venire bagnato Siamo un piccolo scienco velocissimo, va bene? Ho portato il mio, per favore Venga Ah, grazie Ok, metto solo un goccio di pastramo perché sono un po' presbia, signora Ho portato anche questo A lei Senta, mi fa ridere uno di quei massaggini cinesi Mi piacciono tanto e mi rilassano Grazie Va bene Che bello Finito, prendo la sua mano No, usami la sua mano, per favore Ah, certo Allora, li voglio tagliare tutti Mi sono stancata completamente poi con questo caldo Corti? Sì, sì, tutti È sicura, ti ho detto Ma mi sente? Sicura, sicura, eh? Ok, comincia No, ho portato le mie forbici Ah, ok, grazie Mi prendi la spazzola? No, ho portato la mia spazzola, grazie Allora, le piacciono, signora, i capelli? Ma io ho detto corti così, eh? Ha detto che li voleva accorciare tu No, ma non mi piacciono, però sono troppo corti Ma che cos'è? Mi scusi, eh? Adesso mi fa l'extension, assolutamente Aspettiamo finché non ho i capelli come prima Hai capito? Mi prendi l'extension per la signora, per favore? No Le ho portato l'extension Quanto pago? Allora sono 240 euro, signora Ma sta bene lei? Per l'extension? Sì